Prima domanda, se ha conosciuto Giusva Fioravanti, se sì quando, e se ha partecipato assieme a lui ai tentativi dell'evasione di Concutelli? Ho conosciuto Giusva Fioravanti, ritengo di averlo conosciuto all'inizio dell'anno 80, non ho mai partecipato a tentativi di liberare l'evasione di Concutelli. Quando ha conosciuto Giusva Fioravanti? Non posso avere la data esatta, ma una ricostruzione che ho fatto in questi giorni porterebbe a pensare che si parli o degli ultimi giorni di dicembre o dei primi giorni di gennaio. Infatti è coerente proprio con quello che ha confermato pochi mesi fa Giusva Fioravanti qui dinanzi alla Corte d'Assise di Bologna. Però aggiunse che in quel momento, cioè alla fine di dicembre 79 come lei sta confermando, aggiunse che si incontrò con lei in un luogo dove non ricordo e quest'ultimo mi chiese di incontrarmi con un camerata siciliano che desiderava parlarmi. Fissai l'appuntamento per qualche giorno dopo, quindi siamo sempre verso la fine di dicembre, a Piazza del Popolo a Roma e se mal non ricordo il siciliano era accompagnato dal fiore. Trattavasi di Francesco Mangiameli, del quale feci la conoscenza in quell'occasione. Egli mi chiarì che stava occupandosi dell'evasione del suo amico Pierluigi Concutelli e mi chiese di andare a Palermo per effettuare un sopralluogo al fine di concretare l'operazione. Presidente, chiedo scusa, ma gli stiamo contestando il verbale di un altro? Io sto semplicemente... Allora, rimoduliamo diversamente le domande, l'ho detto anche prima in occasione. Giusva Fioravanti ha invece detto che in quel periodo quando vi siete conosciuti, lei gli presentò Mangiameli per fare evadere Concutelli, per organizzare l'evasione di Concutelli. Ora che le ho ricordato questo passaggio di Giusva Fioravanti, lei a proposito dell'evasione di Concutelli può precisare meglio? Signor Avvocato, lei sta omettendo il fatto che Fioravanti dice che quando ci fu la conversazione io mi allontanai. Bene, però ha detto che l'ho mise in rapporto con Mangiameli per organizzare... E che mi allontanai quando ci fu la conversazione. Va bene, ne prendo atto. Ha conosciuto anche Rosaria Amico, la moglie di Mangiameli? E le chiedo se sì, se fosse una militante politica anche ella. No, era la moglie di Mangiameli, non era militante, non direi che fosse militante. Ora, Mangiameli invece lo ha conosciuto, giusto? Certo. Ed era un militante politico di terza posizione. Penso che sia pacifico. Quando lo ha conosciuto? Difficile dirlo. Potrei sbagliare non solo il mese ma anche l'anno. Ma a spanne, signor Fiore? A spanne 77, 78, 79. Non glielo so dire, francamente. Forse a spanne proprio 78. Ecco, le risulta che Mangiameli avesse dei rapporti con i servizi di sicurezza? No, assolutamente no. E sarebbe stato un fatto assolutamente contrario a tutto il nostro... No, voglio dire, non le risulta. Non le risulta il rafforzo della mia affermazione dicendo che se l'avessi saputo si sarebbe assolutamente interrotto le nostre relazioni. Le risulta che Mangiameli nel luglio dell'80 avesse ricevuto l'incarico da Stefano Delle Chiaie di unificare i quattro gruppi dei narro romani facendoli concluire in terza posizione? È assolutamente falso. Non solo non mi risulta ma questo è assolutamente falso. Mi risulta anche che Mangiameli avesse ricevuto degli ingenti finanziamenti dal predetto Stefano Delle Chiaie onde reperire armi ed esplosiva ad ogni costo acquistandoli senza limiti di prezzo? È assolutamente falso. Se il Presidente vuole aggiungo una nota che può... Ma vorrei che il Signor Giudice apprezzasse il fatto che la nostra storia, la storia di terza posizione, è una storia antitetica a tutti gli altri movimenti e organizzazioni come Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo. Per antitetica non intendo quantomeno lontana da tutte queste strutture e qualsiasi collegamento con questa organizzazione veniva visto con sospetto. Figurarsi dei servizi segreti che noi abbiamo visto assolutamente sempre lontani e antitetici a noi e poi si vedrà con il fatto per cui sono parte l'ESA che così si sono dimostrati. Senta, ha conosciuto il colonnello Amos Spiazzi in quel periodo, cioè gli 80 a Roma? Assolutamente no. Posso precisare che quando il Signor Spiazzi va al processo di terza posizione e descrive il sottoscritto e descrive anche Francesco Mangiameli, incappa in una serie di errori drammatici, di quale la mia altezza, la corporatura di Mangiameli, l'accento di Mangiameli. Pertanto tutta la sua deposizione non solamente è falsa, ma può essere assolutamente figurata in un'operazione anch'essa dei servizi segreti, per attaccare terza posizione. Scusi, questo risulta nelle sentenze di terza posizione? Allora, risulta negli interrogatori, forse... Scusi Presidente se mi intrometto. Dunque, l'interrogatorio avvenne... ...dia da Mangiameli? Non posso dire molte delle domande, potrei rispondere confusamente sì, ma rischerei di fare un errore, direi, non mi ricordo. Senta, se le cito un passaggio del verbale della Rosaria Amico, davanti ai PM di Roma, summa e guardata, 16 settembre dell'80, che è agli atti del fascicolo della strage. Verso i primi di luglio venne a Palermo Robertino Fiore e mio marito andò con lui a Catania partendo e tornando nella stessa giornata. Lei ricorda questo passaggio a Catania? No, mi spiace. Ora, lei ricorda sempre nel luglio dell'80 se Giusva Fioravanti e Francesca Mambro furono ospitati a casa del Mangiameli in Sicilia a Tre Fontane? No, non mi ricordo. Sempre stesso meccanismo di prima, la stessa amico, solo per farle riaccendere la memoria, non è una contestazione tecnica formale. Allora, evitiamo di darne lettura, possiamo eventualmente fare riferimento alla voce di qualcun altro. Sì, non iniziamo la domanda dicendo Tizio ha detto che, perché effettivamente il test non può rispondere, al test non possono essere formulate contestazioni su cose che hanno detto da altri. Possiamo chiedere dei riscontri su quello che hanno detto altri. Lei si può mettere a sedere, non c'è problema. D'accordo, signor Presidente. Ecco, quindi inizi le domande in un altro modo. Nell'agosto dell'80 Giusva Fioravanti le parlò del suo, cioè di Giusva, risentimento nei confronti del Mangiameli, per caso? Cioè, lei seppe di un risentimento di Giusva nei confronti del Mangiameli? Mi sta chiedendo due cose. Escludo di aver incontrato Fioravanti in quel periodo. In realtà mi sembra che risulti abbastanza pacifico e io penso di poter confermare di averne incontrato solo quella volta di cui ha parlato prima. Non, certamente non ho parlato mai con Fioravanti di Mangiameli e sicuramente non nel periodo di agosto, quindi direi no. E nei giorni immediatamente successivi all'omicidio Mangiameli, che è del 9 settembre dell'80, che come forse ricorderà, lei incontrò a Roma la signora Rosaria Mico, cioè la moglie di Mangiameli? Guardi, ho un confuso ricordo di aver incontrato la moglie di Mangiameli immediatamente dopo, ma non mi ricordo né dove né quando e certamente questo era riferibile al fatto dell'avvenuto ritrovamento del marito. Ma era quindi questo incontro, sia pure un po' confuso, è avvenuto subito dopo l'omicidio? Per forza, certo. Benissimo. Espresse delle sue opinioni alla moglie in merito all'omicidio di Mangiameli? Delle mie opinioni non penso di aver espresso nessuna opinione perché non penso che fosse il momento di esprimere opinioni e oltretutto in quel momento probabilmente non ne avevo. Non fece per caso riferimento esplicito a Giusva Fioravanti come il killer del marito? Non posso né escluderlo né confermarlo. E come in quel periodo con Giusva Fioravanti, cioè i primi di settembre dell'Ottanta, subito dopo l'omicidio di Mangiameli, lei in che rapporti era? In nessun rapporto, nel senso che io non incontrai mai Fioravanti. Chiaramente ci sono dei comunicati che mi sembra furono emessi attorno a settembre in cui è chiarissimo che Fioravanti mira all'eliminazione del sottoscritto di altre persone rivendicando l'omicidio Mangiameli. Ecco, ma lei come se lo è spiegato questo atteggiamento di Giusva così violento nei suoi confronti? Guardi, questa è una domanda che penso che possa essere anche la, riassume la mia risposta anche la domanda che penso che mi avrebbe fatto. Cioè, lei sa il motivo dell'eliminazione di Mangiameli? Lei aggiunge, so il motivo di questo odio nei miei confronti? La risposta, l'unica risposta, e penso che lei capirà che io sono, voglio fare una brevissima premessa, io sono una persona che ha avuto non certo dei benefici da quello che avvenne in quel periodo e sono parte lesa in questo processo. Non so se è noto a voi avvocati che io sono parte lesa del depistaggio, che è un dato penso importante, sono sicuro che il signor giudice lo saprà, però è bene che lo sappia anche la stampa che è presente. Io sono parte lesa per il depistaggio fatto da Musumeci, Belmonte, Pazienza e Gelli. Questo nel quadro. Chiaramente da Bologna iniziano tutte le mie vicissitudini di fuga dall'Italia, eccetera, eccetera. Quindi la domanda che lei mi pone è una domanda per me a cui non posso dire di avere una risposta certa, ma ho una risposta logica, che parte anche dall'affermazione di Fioravanti, e cioè che l'eliminazione dei capi di terza posizione era fondamentale perché i giovani di terza posizione si rivolgessero in un certo senso alle sue attività. Cioè mancando i capi, tanti giovani che erano stati sicuramente cresciuti in un'atmosfera di, come si è stata definita, guerra di bassa intensità, cresciuti in un certo clima, potevano essere coinvolgibili nelle azioni di Fioravanti. Quindi per lui era necessario far fuori i capi di terza posizione. Bene, sapeva anche che Giusva Fioravanti in quel momento volesse uccidere anche Massimiliano Fachini? Questo non lo ricordo. Vuole tratteggiare per un attimo la figura di Fachini e se lei ebbe rapporti in quel periodo con Massimiliano Fachini? Guardi, conobbi Fachini e vorrei che lei apprezzasse il fatto che tanti di questi personaggi furono da me conosciuti per un motivo politico. Nel senso, io ho sempre fatto politica, dall'età di 14 anni. Certo, era un periodo particolare, però anche il mio iato londinese, io faccio politica, come oggi faccio politica. Quindi io conobbi Fachini in un ambito politico. Lui era, se non erro, uno dei capi di Costruiamo l'azione e ci fu un tentativo legittimo da parte sua e di altri esponenti di Costruiamo l'azione di unirsi a terza posizione. Ma noi decidemmo che non era assolutamente il caso per una serie di motivi ideologici, ma anche, come possiamo dire, di età d'esprit attorno a questi leader di quest'altra organizzazione. Ma vi siete visti immaterialmente? Beh, certo, sì, sì, certo. Più volte? Boh, una volta sicuramente, già due non sarei certissimo. Ora, passiamo ad un altro tema, e cioè Leonardo Giovagnini e Radio Mantacas di Osimo. Innanzitutto, se ha conosciuto Leonardo Giovagnini e l'emittente radiofonica, appunto, Radio Mantacas di Osimo. Sì. Prego. No, sì, l'ho conosciuto. Descriva le circostanze, quando esattamente, perché... Ma questa è tutta... io non mi avvalgo da rispondere che è tutta terza posizione questa, però va bene. No, no, però la facoltà di non rispondere riguarda la natura di associazione sovversiva o armata di terza posizione. Depurata da questo aspetto, quello che riguarda... Sì, sì, no, ma intendo rispondere. Sì, sì. Radio Mantacas è una radio d'ambiente che a un certo momento entra in terza posizione. Giovagnini entra in terza posizione, anche lui. Per il momento, ecco, diciamo questo, poi non so se mi vuole altre domande. Scusi, radio d'ambiente cosa vuol dire? Era una radio, diciamo, che era per un periodo fra il Movimento Sociale e probabilmente qualche altro gruppo, ma a un certo momento la radio passa proprio con terza posizione. Ok. Ma questo perché, signor Fiore, lei voleva una sponda nelle Marche, ad Osimo in particolare, per il suo movimento politico, è corretto? Certo, non precisamente a Osimo, ma nel senso la trovo ad Osimo, certo, sì, sì. Quindi Giovagnini era l'animatore di questa radio. Lei è stato ad Osimo, a Radio Mantacas? Sì. Vi ha conosciuto dei soggetti che vi gravitavano? Oltre a Giovagnini, naturalmente? No. Io, perché mi ricordo di Osimo e di quella situazione, Giovagnini, la moglie, ma non di più, mi dica dove vuole arrivare. Voglio dire, Giovagnini è un militante politico di terza posizione oramai, perché viene da lei cooptato. Oltre a Giovagnini, ci sono altri militanti ad Osimo di terza posizione che ci ronzolano attorno alla radio Mantacas? Non posso ricordarmelo, ma non mi ricordo nessuno. Dopodiché, lei, nell'agosto-settembre dell'80, perché mi pare di capire che abbia conosciuto Giovagnini prima del luglio-agosto-80. Certo, si parla del 79, mi sembra. Perfetto. Nel gennaio, giusto? No, non lo so. Comunque, i primi del 79, è corretto, a grosso modo? Non voglio confermare, non posso confermare. Vabbè, comunque ha detto 79. Ora, nell'agosto-settembre dell'80, ha chiesto al Giovagnini di nascondere Ciavardini nelle Marche, vicino Osimo, da qualche parte lì vicino? Non mi ricordo. Non lo esclude? No, diciamo, non mi ricordo. Certo, una cosa, se non la si ricorda, non la si può escludere nemmeno negativamente, però, diciamo, non posso dire assolutamente nulla con certezza. Senta, allora, con Ciavardini, invece, in quei primi sei mesi dell'80, che rapporti aveva? Lo conosceva? Se sì, perché era un militante politico? Era un militante diciassettenne di terza posizione, che rimase coinvolto nel gravissimo episodio del Giulio Cesare. E pur tenendo il nostro movimento, io le ricordo che eravamo tutti ragazzi di 21 anni, quindi non c'erano come oggi gli strumenti di formazione indispensabili per dare un'idea del movimento. Ma il movimento si mostrò immediatamente, come posso dire, colpito da quell'episodio, tant'è che il mio collega capo di terza posizione, Gabriele Adinolfi, andò a trovare uno dei poliziotti feriti. Proprio perché noi non ci riconoscevamo assolutamente in questo episodio. Detto questo, quando sapemmo del fatto che Ciavardini era stato coinvolto, per spirito, certo non paterno perché avevo 20 anni e lui era 17 o 16 in quel momento, però diciamo, per spirito di cameratismo, io mi offrì di aiutarlo e fare in modo che potesse in un certo senso sfuggire a quello che lo stava in un certo senso aspettando. Quindi lo vidi sicuramente, non mi ricordo nemmeno quando fu il fatto del Giulio Cesare, però lo vidi sicuramente dopo, ma a un certo punto non lo vidi più. Senta, ma lo vide con un taglio sullo zigomo ferito, insomma al volto? Ce lo ricorda? Sì. Ecco, per caso lo indirizzò da qualche medico, chiese aiuto lui a lei, visto che era il suo capo politico? No, lui mi chiese aiuto e io cercai di aiutarlo, ma vorrei che fosse chiaro che è come quando si ha un figlio, il figlio ha fatto una sciocchezza, una cosa grave, non lo si porta ai carabinieri, gli si fa capire la gravità di quello che ha fatto e si cerca di salvarlo dalle conseguenze peggiori. Non mi ricordo se l'ho portato da un medico, ho capito, lei si riferisce al fatto della scheggia, eccetera, però non fui io, non mi ricordo se lo portai io dal medico, però mi ricordo del fatto. Ma in questi giorni, diciamo, del ferimento di Ciavardini, subito dopo Giulio Cesare, lei ebbe modo di vedere anche Cavallini? No, assolutamente no, io non ho mai conosciuto Cavallini, mai incontrato, ma non penso di essere l'unico che lo dice, sembra che tutti siano... Giuseppe dice esattamente il contrario, non mi risulta. Presidente, io non mi oppongo, sto zitto, però... Sì, non contestiamo le cose dette da altri. No, però se poi l'avvocato per contestare qualche cosa riferisce frasi che altri non hanno mai pronunciato, io non ho trovato... Arriveremo al punto, e non è una contestazione, perché tecnicamente non è una contestazione, è semplicemente far il tentativo di far affiorare la memoria al teste, mettendolo a confronto con una dichiarazione di un altro testimone. Tutto qua è ammissibile. Ho detto di fare le domande in un altro modo. Lei ricevette a Roma la visita del Giovagnini ai primi di luglio dell'80? E se sì, perché? Non mi ricordo assolutamente di questo episodio. Senta, soltanto per raffrescarle la memoria, non le sovviene il fatto che assieme andaste a rivedere un certo Claudio, che è pacificamente De Orazzi, Luca De Orazzi? No, non me lo ricordo. Passando per piazzale Istria. Allora, signor Avvocato, il problema è questo, che io non ho mai celebrato nessun processo, non ho mai dovuto deporre, non mi sono mai letto gli atti, non ho potuto mai confrontarmi con le dichiarazioni degli altri. Ad esempio, quello che lei mi sta dicendo adesso, rispetto al fatto quando eventualmente sarebbe accaduto, è una cosa totalmente astrusa in cui io non mi ricordo di De Orazzi, non mi ricordo di Claudio, non mi ricordo di questo incontro, ma non perché non voglio ricordare. Perché è così nella mente di una persona che non ha mai trattato questi argomenti per il numero di anni che sappiamo tutti che sono passati. Sì, però lei era un protagonista di quei... E questo non significa che mi allarghi la memoria e me la renda più potente. Il protagonista è di un'azione politica, chiara, conclamata, che porta alla condanna di un movimento come terza posizione senza reati specifici e all'assoluzione di 40 persone che sono state tenute 4 anni in carcere e poi ritrovate innocenti. Lei non disse mai a Giovagnini che il movimento a Roma era diventato molto forte, cioè terza posizione era diventato molto forte e che in sostanza perseguiva finalità eversive? Ah, eversive non avrei mai utilizzato questo termine, non avrei mai utilizzato mai eversive, mai sovversive, forse avrei utilizzato rivoluzionarie, che è un altro discorso, io sto molto attento alle parole. L'eversione è un fatto interno allo Stato, io non sono mai stato interno a questo Stato. Sovversivo ha una precisa connotazione marxista, perché proprio nello stesso articolo c'è la lotta di classe, in una delle cose, quindi io non avrei mai utilizzato questi termini e questo denota la falsità di queste asserzioni. Sta scritto nelle sentenze passate in giudicato. Non importa, falso. Allora, sì, ma questo l'ho già detto all'Avvocato, le motivazioni delle sentenze non possono essere contestate. Com'era la condizione economica del movimento terza posizione nel luglio dell'80 a Roma? Io gli posso dire qual è stata la mia condizione economica nel momento in cui sono entrato in latitanza. Io ho lavato per nove mesi piatti a Londra. No, no, ma io le sto parlando di Roma, poi lei sta facendo un passo in avanti. Zero soldi. Io le sto parlando di Roma un attimo prima che lei fuci. Zero soldi. A Londra. Zero soldi. No, a Roma. Sì, ma a Roma qual era la condizione economica di... No, noi non avevamo soldi. Noi lasciamo un conto mai pagato al povero tipografo gentile che adesso è passato a miglior vita di non so quanti milioni perché non potevamo nemmeno pagare il giornale. Noi non avevamo una lira e, se ben va a vedere, anche quello che dice Fioravanti a proposito della famosa cassa di 60 milioni viene smentito. È dagli atti che viene smentito e ci sono condanne per diffamazione per questo motivo. Quindi nemmeno autofinanziamento attraverso le rapine? Ma di che? No, voglio dire no e le ricordo che nel processo di terza posizione non ci sono rapine commesse nell'ambito dell'azione di terza posizione. No, voglio dire no e le ricordo che nel processo di terza posizione.